Dipinti realizzati sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, due disegni del pittore alessandrino Pietro Morando, una raccolta di foto scattate dal fronte orientale, riproduzioni di ex voto. Sono alcune delle testimonianze esposte nella mostra Piemontesi alla fronte, parole e immagini 1915-1918, visibile nella Galleria Belvedere di Palazzo Lascaris fino al 22 aprile. La mostra si compone, è costituita da tre nuclei sostanzialmente, cioè la prima parte è quella dedicata a un ufficiale in servizio permanente di cavalleria, la seconda parte è interniata invece su una selezione di 24 dipinti di Giuseppe Augusto Levis, l'ultima parte, la terza sezione, mette assieme appunto ex voto, materiali fotografici.